Lavora, ori, alla riscossa! E' qui che l'Unione Europea getta la maschera e svela il suo piano autoritario e antidemocratico, nemico dei popoli e delle lotte. La accogliamo con un applauso e con tutta la nostra visione e con tutta la solidarietà internazionalista. Grazie. Grazie a tutti i comunisti della Repubblica Popolare di Lugansk. Vi siamo grati per averci dato la possibilità di partecipare ai vostri lavori e parlarvi del nostro lavoro nel Donbass. Grazie a tutti i comunisti della Repubblica Popolare di Lugansk. Il partito di Lugansk ruthottierà è all'incontenere almentalismo imparable. E' un'attualità che lo devono raccontare come partecipare. Grazie a tutti, se nazunТi, attraenteranno la prallemettà matrimoniale disegnati. Lo voglio tutti i nostri app2080s. aso copri parlare i socialisti del Lugansk Colorado di Lugansk Cesundertritzi. Lo hacer a tutti i comunisti, Maxime Chaverka. La tonality dei temi è l'ordine del giorno della Conferenza per la composizione dei partecipanti neFC fare una iniziative di grande importanti non solo per la vita politica gale in Italia e in Europa, ma anche per noi comunisti e cittadini del Donbassi. Una piattaforma di libera espressione delle proprie posizioni, di scambio di opinioni, di esperienze, di elaborazione di idee comuni, la pianificazione del lavoro futuro sono molto importanti per tutte le forze di sinistra dell'Europa e parte della Comune lotta contro il capitalismo per un futuro più giusto e per il socialismo. Ci uniscono sfide comuni, problemi comuni e comuni obiettivi finali e proprio così ciò significa che nel sostegno reciproco e fraterno noi riusciremo a superare le difficoltà e raggiungere la vittoria. Siamo profondamente convinti che la conferenza contribuirà al rafforzamento della cooperazione internazionale e i suoi risultati troveranno la propria realizzazione della prassi quotidiana. A tutti i partecipanti auguriamo un fruttoso lavoro. Il Presidente del Partito Comunista di Lugansk, Maxime Cialinco. Cari compagni, buon pomeriggio. Sono arrivata dal Donbass per portare ai compagni italiani e a quelli giunti a Roma da altri paesi il nostro saluto internazionalista. Il saluto dei comunisti della Repubblica Popolare di Lugansk. Oggi noi siamo sulla linea di fronte della lotta contro il fascismo ucraino, creato e sostenuto dalle forze capitaliste dell'Occidente. In Donbass c'è ancora una guerra e nonostante gli accordi di Minsk, ogni giorno muoiono delle persone. Dal 2014 il nostro territorio è costantemente sotto il tiro dell'artilleria dell'esercito di Kiev. Le cifre sono terribili. Più di 10.000 morti, di cui più di 100 sono bambini. Anche ora, mentre siamo qui in questa sala, qualcuno sta morendo, se è un soldato o un ceriglio. La regione continua a soffrire per una catastrofe umanitaria. Il Donbass era un'area industriale. Circa il 50% dell'industria pesante ucraina si concentrava qui. La produzione di macchinari, tubi, laminati, vagoni ferroviari, turbine, l'industria chimica e molto altro. Ora quasi tutto è fermo. Tante imprese sono rimaste distrutte dai bombardamenti, altre sono state danneggiate. Ma la ripresa delle estività produttive è in forte dubbio. Buona parte della popolazione ha perso il lavoro. E quei fortunati che ancora ce l'hanno guadagnano 60-80 euro al mese, mentre le pensioni sono di circa 30 euro. Mille persone sono rimaste senza tetto e molti di loro, non avendo dove andare, vivono e riscantinati. È difficile per molti e per molti impossibile spostarsi a cercare lavoro altrove. Tutti gli altri amministrativi, come rilasciano i documenti o i certificati, non sono riconosciuti da nessun paese del mondo. Tra l'altro è che dalla Russia, che con un decreto di una settimana fa ha ratificato la validità di questi documenti sul territorio russo. Dal 2014 l'Ucraina ha interrotto al Donbass la fornitura di qualsiasi merce, compresi i medicinali. Quindi in amore si muore anche per noi uscire a trovare l'insulina e per curare il diabete. Siamo di fronte a un girocidio del popolo ucraino fatto dal governo ucraino. Viviamo in isolamento economico, giuridico e umanitario. Perciò, cari compagni, il supporto internazionale per noi è vitale. Questo supporto c'è stato da parte di molti compagni a cui siamo particolarmente grati. Soprattutto i compagni italiani si sono distinti nello primo sostegno. Comitati di solidarietà, giornalisti, singoli e attivisti. La loro mobilizzazione si è servita a dare sostegno concreto e a portare la voce della verità al di là dei confini. Spiegando al popolo d'Europa quale sia la vera anima dell'eormaida, non quella che viene riportata dai media ministri. Siamo grati ai comunisti d'Italia, d'Europa e del resto del mondo per il sostegno da loro offertoci. Il Donbass non è dalla UE, né dalla Nato e mai ci sarà. Forse il nuovo corso dell'Ucraina potrà il paese ad aderire a queste organizzazioni, ma non noi, perché ci siamo salvati in armi anche contro questa prospettiva. La nostra insurrezione era per dire no al fascismo, ma anche al capitalismo e per questo abbiamo fondato una Repubblica Popolare. Ovviamente non vi stiamo dicendo che dovete fare lo stesso. Al momento dell'Unione Europea non ci sono le condizioni per tale prospettiva, ma possiamo offrire da un lato un'esperienza diretta, dall'altro qualche spunto di rispizione formulato da un punto di vista esterno, quindi libero da condizionamenti di sorta. Non ha senso sganciare la battaglia per l'uscita della UE con quella contro la Nato, non tanto perché le due organizzazioni sono complementari e si sostengono a vicenda, e quindi una sconfitta per l'una determinerà un del pitebolimento e dell'altra. Quanto per un motivo più profondo. Queste organizzazioni non sono altro che strumenti del sistema capitalista e internazionale. Il primo è uno strumento economico e l'altro bellico, ma entrambi funzionali hanno lo stesso progetto di dominio politico, economico, culturale e militare. Gli strumenti sono fungibili. Quando guasti, usurati, obsoleti, inadatti, si possano tranquillamente sostituire. Quindi se concentriamo i nostri sforzi solo contro la UE e la Nato, pur vincendo le nostre battaglie, non metteremo in crisi il sistema che saprà rapidamente dotarsi di nuovi strumenti alternativi. L'unico modo per cambiare davvero le cose è di mirare al cuore del problema, colpire il sistema capitalistico. Mettendo in crisi, poi anche i suoi strumenti di dominio diventeranno inusorabili. Per fare ciò la strada è una sola, il socialismo. Nel centenario della rivoluzione d'ottobre ripetiamo che l'alternativa è ancora tra il socialismo e le barbarie. Costriamo insieme anche un corso di lotta internazionale che possa indicare una strada per la sconfitta del capitalismo in ogni parte del mondo e una vittoria per tutta l'umanità. Corriginiamo le nostre lotte sostenendoci a vicenda. La Repubblica Popolare che ora stiamo costruendo è la dimostrazione che un secolo è passato ma l'edizione d'ottobre è sempre attuale. Brava! I comunisti di Lugansk hanno già dato un loro piccolo contributo in questa lotta. Due anni fa nel maggio del 2015 abbiamo organizzato con l'aiuto di alcuni compagni italiani un forum internazionale che si chiamava AIES, Antifascist Internazionalism Solidarity. Delegati da 17 paesi le hanno preso parte. Questo forum ha dato il via ad una campagna internazionale di solidarietà con il popolo del Donbass e in lotta contro il fascismo. Si è costruito un ponte tra la nostra lotta e quella di tutti i compagni che qui in Europa lottano contro la politica imperialistica della UE e della NATO. Nella prima edizione ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Abbiamo discorso di possibili piedi di interazione. Quest'anno vorremmo realizzare una nuova edizione del forum dedicandola al centenario della rivoluzione d'ottobre. Prevediamo di realizzarla a ottobre e novembre. E' ancora da definire. Invitiamo tutti a partecipare all'organizzazione. Siamo sicuri che il prossimo forum aiuterà a consolidare le nostre forze contro il capitalismo in tutto il mondo. Uniti si tutti. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.